Ciao a tutti ragazzi, spero che siate bene, non so voi, ma sono davvero stanco di alzarmi tutte le mattine con questo suono. Non mi nego che a volte quando la mattina suona la sveglia, letteralmente salto dal letto. Proprio per questo motivo ho deciso di produrre da zero un piccolo brano da poter utilizzare come sveglia e riuscire finalmente ad avere un risveglio molto più piacevole. Vi dico già da adesso che il risultato finale lo trovate in descrizione se volete scaricarlo gratuitamente ed utilizzarlo come suono anche per la vostra sveglia. Ma detto questo passiamo subito al computer e andiamo a vedere cosa fare. Allora, eccoci qua in Logic. Il tempo che ho scelto è 100 bpm, quindi non troppo veloce, non troppo lento. Andiamo a registrare due accordi molto semplici. Poi li andremo a luppare. Adesso andiamo a scegliere un suono un po' più carino. No, non mi piace nulla. Molto interessante. Io questo suono lo chiamerei acqua, anzi water, perché fa più cool. Andiamo a scegliere un altro suono principale, vorrei qualcosa di un po' più organo. Interessante. Anche se c'è troppo attacco. Proviamo a vedere qualcosa di diverso. Eccolo. Questo mi sembra interessante. Mettiamo come organo. E magari gli andiamo subito a creare un po' di movimento. Per quanto mi riguarda nella produzione, è davvero molto importante perdere tempo sulla qualità del suono. Poiché credo davvero che non è una questione di quantità di tracce, ma più una questione di qualità. E adesso cancellerei questo, che non ci serve. E andiamo a prenderci un drum kit. Lo Fai Fills. Vediamo di cosa si tratta. Attualmente i suoni che mi ispirano di più... Questo, che è molto carino. In realtà su questo avrei un'idea un po' malsana. Non so cosa ne possa uscire fuori. Forse mi convince, però per capire se ci sta bene, lo voglio registrare, esportare e andare a lavorare un po' a livello di sound design. Lo esportiamo così, nudo e crudo. FX. Di base, quello che vorrei fare su questo suono è... Andarlo a distorcere un bel po'. Sì, proprio da sfondarci i timpani. Andrei di riverbero. Riverbero super lungo. Ok, abbassiamo un po' il mix. Ok, forse proverei una distorsione diversa. Questa è un po' troppo aggressiva. Proviamo questa. Già molto meglio. Mi convince molto di più. Magari proviamo a dargli un po' di movimento anche qua. Facciamo muovere un po' questo suono. Adesso proverei a farlo muovere un po' all'interno dello spazio stereo. Stiamo parlando di una sveglia. Dite voi, che ce frega. Ma nulla. Così mi gira la testa. Raga, spettacolo c'è. Vi faccio ascoltare la stessa cosa. Per capire la differenza, indossate le cuffie, mi raccomando. Senza... Con. Adesso io andrei a lavorare ancora un altro po' con le batterie. Qualcosa davvero di super dritto. Anche abbastanza nel tempo. Questo organo inizia a non convincermi. Già è tutto molto più fattibile. Allora, vediamo dove eravamo arrivati. Questo è carino. Sul levare. Esatto. Adesso ci andiamo a fare un po' di aiette, magari. Beh, direi che ci siamo. Non aggiungerei altro per non sovraccaricare la cosa. Io farei un qualcosa che duri al massimo 20 secondi. Proviamo a fare un layer con quel suono water che avevamo trovato. Questo era carinissimo. Mettiamo bassissimo. Andiamo a copiare l'ottava giusta anche qua. Andrei adesso a metterci un sub di basso. Semplicemente questo. Due note. Né più né meno. La ciccia. Ma adesso non voglio dimenticarmi qualcosa di importante. Ovvero il suono di sveglia. In questo caso dovremmo dargli un senso. Il nostro suono molesto. Eliminiamo questo. Proviamo a picciarlo. Una mandata di riverbero anche a questo qui. Ovviamente andrei a filtrare. Tutti i bassi li filtrarei. Altrimenti sono bruttissimi. Andrei a togliere un po' di questa pancia. Forse anche chirurgicamente. Già molto molto meglio direi. Ok adesso quello che proverei a fare è proverei ad automatizzare il pitch. A questo punto penso che a livello di struttura siamo ok. Proverei a fare entrare questa batteria con calma. Proprio per non svegliarci di colpo. Ecco mettiamola così. La cassa la farei entrare molto più tardi. La vediamo. Io sposterei tutto qui. Proprio per dare questa sensazione di risveglio progressivo. Poi iniziamo a metterci un po' di rullo. Il basso, sono sincero, non mi convince affatto. Per nulla proprio. Forse userei il basso dell'organo direttamente. Sì. Molto meglio. Mettiamo ancora un'altra di sveglia. E ovviamente proverei ad automatizzare anche il volume. In modo tale sempre da non avere questo risveglio troppo improvviso. Mettiamola così. Se la sveglia va in loop, potremmo fare tranquillamente questo. Se la lasciamo squillare, dovrebbe partire di nuovo da capo, di base. Ok, arrivato a questo punto vorrei registrare una chitarra semplicissima. Che mi prenda semplicemente un'armonia abbastanza sognante. Poi la andremo a filtrare. Jabs done! La chitarra ha fatto il suo sporco lavoro. Ok, forse il primo mi piace di più. Tagliamo. Copiamo. Identico. Adesso andrei a metterci magari lo stesso riverbero. Poi di lo fai. Per dare un effetto ancora più carino, duplicherei le chitarre. E le mettiamo in reverse. Vediamo che cosa esce fuori. In realtà sto cercando di ragionare nell'ottica in cui stiamo parlando di una sveglia. Mi piace avere l'idea nella testa di tranquillità. Ci stiamo svegliando. L'ultima cosa che voglio è andare a fare un'automazione di volume generale. In modo da svegliarci sempre abbastanza dolcemente. Ora mi sembra ottimo. Che dire ragazzi, io penso che ci siamo. Farò giusto un piccolo master. Poi lo esporto. E lo ascoltiamo insieme. Ok ragazzi, io ho appena esportato la sveglia. Come potete vedere. Io ve la lascio in descrizione così che possiate scaricarla tutti. Domani mattina la testerò per la prima volta. Quindi vi faccio un video a caldo dove capiamo un po' le impressioni. In ogni caso se il video vi è piaciuto io vi invito ad iscrivervi al canale se non ancora l'avete fatto. È davvero molto importante per supportare il lavoro che faccio dietro questi video. Lasciate un like e fatemi sapere nei commenti se anche voi odiate il suono della sveglia dell'iPhone. E se magari questo suono vi è più piacevole. Provatelo magari una mattina e fatemi sapere qui nei commenti qual è la vostra prima impressione, prima sensazione. Io vi ringrazio inoltre per aver seguito il video fino alla fine. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ok, sta piovendo. Buongiorno a tutti. Questa mattina ho provato per la prima volta la nuova sveglia. Devo dire funziona e funziona anche bene. Quindi io ve la lascio qui ancora in descrizione. Ve lo dico ancora una volta. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando iscrivetevi al canale. Lasciate un like. Noi ci vediamo. Ciao!